Ma dove sta la meraviglia? Non sta nel general Missori, sta nel cavallo sottostante, il cavallo stanco del Missori, che subito fu battezzato il cavallo di Brum. Brum erano le carrozze che portavano in giro i milanesi e i cavalli che stavano attaccati a queste carrozze erano particolarmente tristi, desolati per il lavoro che erano chiamati a fare. Ma dopo questa prima voce il cavallo del Missori è stato preso ad esempio per tutte le persone un po' tristi, giù di corda, demoralizzate. Se nel cavallo del Missori è un modo di dire comune a Milano probabilmente lo è ancora adesso. Perché in effetti questo cavallo sembra un ronzinante rispetto al carattere tronfio del personaggio che gli sta sopra. Tanto che un poeta ha pensato perfino di dedicare una poesia a questa statua. Adesso se la trovo vi leggo pochi versi. Eccola qua. Col suo passo di vecchio ronzino, l'occhio crispe parlando e tacendo, tutto solo in un mondo tremendo, zoppicando, si mise in cammino, troppo stanco di dentro e di fuori, brontolando però senza voce, trasportando anziché la sua croce, ritto in sella Giuseppe Missori. Questa è la bella poesia dedicata a questa bella statua di Cavallo con Cavaliere. Tra l'altro all'alba del 2012 qualcuno aveva rotto la spada del Missori e devo dire che per i pochi anni in cui il Missori è stato con la spada rotta faceva più simpatia perché appariva un po' la stregua del suo Cavallo, ecco, e non nella prosa un po' stentorea che qui vedete. Questo invece è il Cavallo di Leonardo. Non perché l'abbia fatto Leonardo, anzi sapete la storia di questo cavallo. Leonardo era venuto a Milano chiamato da Ludovico il Moro proprio perché Ludovico il Moro avrebbe voluto una statua equestre di suo padre Francesco Sforza che fosse adeguata al personaggio. E seguendo questa indicazione Leonardo si mise a disegnare un cavallo enorme di sei metri di altezza, quattro metri di lunghezza, insomma una meraviglia, quale mai era stato fatto fino a quel momento. Se non che finiti i disegni e tutto quanto, quando si trattò di trovare chi potesse forgiare una opera di questo tipo, Leonardo non la trovò. E quindi il cavallo di Leonardo rimase in un sogno nel cassetto riposto senza la possibilità di essere realizzato. Chi l'ha ripresa in mano? L'ha ripresa in mano questa dica Akamu, questa giapponese trapiantata negli Stati Uniti d'America, che godendo di una colletta che a partire da un mecenate americano era stata fatta per la restituzione di questo cavallo, è riuscita nell'ultimo decennio del Novecento a forgiare quest'opera davvero importante che poi è stata donata al Comune di Milano proprio dal mecenate che l'aveva finanziata. Questo cavallo oggi è posizionato nel galoppatoio e inizialmente la soluzione era senz'altro degna perché in un cavallo al galoppatoio ci sta bene. Peccato che adesso con la crisi delle corse il galoppatoio non funziona più e quindi il cavallo è lì un po' solo, isolato e quindi bisognerà trovare sicuramente una nuova collocazione. C'è chi sta già pensando che col nuovo San Siro probabilmente lo si potrebbe collocare nella nuova sede dello stadio ma è tutto da vedere questa partita. Però è una bella statua, cioè il disegno di Leonardo è stato perfettamente rispettato anche nei particolari e quindi merita di essere vista. E questo è il nostro buon Giuseppe Verdi, qui ritratto in una posa davvero buonaria, davvero simpatica. Poi quell'aggiunta di Piccione che è riuscito a fotografare il nostro petto gli ha dato ancora più simpatia. Dicevo prima dell'equivoco del nome della piazza, ecco Piazza Buonarroti per una strada di questo tipo e con la casa di riposo lì di fianco non ci sta molto bene, però chissà se un giorno o l'altro si riuscirà a correre ai ripari. E questo è quello che vi ho mostrato prima davanti all'ospedale di Liguarda c'è questo complesso statuario duplice, da una parte ci sono i duchi di Milano che regalano la cagranda e qui invece c'è San Carlo Borromeo col dito sollevato, guardate che meraviglia quel dito che impone ai delegati ospedalieri il rispetto della bolla papale che prescrive l'erezione di questo ospedale. L'opera è di Francesco Messina e Francesco Messina ha scelto per i visi dei due delegati due suoi amici, tra l'altro personaggi famosi, perché il primo che vedete è un poeta Vincenzo Cardarelli e il secondo che vedete un po' in lontananza è un pittore maussig che erano stretti amici del Messina che quindi ha voluto far loro omaggio di questa portarli così a motorietà attraverso questa bella statua. Vi dicevo che questo complesso statuario come l'altro stanno davanti all'ospedale di Liguarda e allora consentitemi solo di fare un piccolo omaggio all'ospedale di Liguarda perché se la Cagrandia è stato il grande ospedale del 400, il primo ospedale europeo voluto a Milano dai duchi di Milano e dalla volontà papale, in Liguarda è stato il grande ospedale del 900 milanese realizzato e concluso nel 1939 e quando fu inaugurato nel 1939 fu giudicato il più bello ospedale parco d'Europa perché la commistione tra paviglione verde, c'era stato un architetto del verde che si era particolarmente dato da fare per rendere ottimale la piantumazione in Liguarda tanto che in nessun mese dell'anno non c'era un fiore a Liguarda proprio per lo studio particolare che era stato fatto. Oggi con la ristrutturazione, i nuovi blocchi eccetera purtroppo gran parte di quel verde è andato perso, ahimè il mio ospedale. E questo è quel monumento molto bello che vi dicevo, in piazza Formentano, la piazza Formentano è quella che in tempo era la piazza Marinai d'Italia, Formentano è stato il medico che ha fondato l'Avis e allora l'Avis ha ritenuto, vista la denominazione della piazza Formentano di dedicare un monumento ai donatori di sangue. Questo monumento è stato fatto da una scultrice, a me piace dire scultrice, ungherese naturalizzata in Italia che ha rappresentato questa simbiosi di un uomo e di una donna dove la cosa più così che attira l'attenzione è che la donna praticamente perde la pelle, dona la sua pelle al uomo che sta abbracciando. E quindi è un gesto di donazione, di generosità che rende il monumento particolarmente empatico, particolarmente emozionante. Merita di essere visto e considerato oggi una delle cose più belle presenti nella città di Milano. Questo è quello che vi dicevo prima il monumento ossario dei piccoli martiri di Gorla che richiamano quella data terribile del 20 novembre del 1944 quando un aereo che doveva essere amico inglese invece di impiazzare la bomba come avrebbe voluto in un'altra scuola. Per errore la sganciò sulla scuola elementare di Gorla causando nel giro di pochi secondi 180 erotti morti bambini più 18 morti tra il personale docente quindi più di 200 morti per questo errore. E a questo episodio nella piazzetta di Gorla che è uno dei luoghi più belli di Milano, se l'avete visto con la martesana lì di fianco, un angolo molto parigino, molto comunque tranquillo, è stato fatto questo monumento in cui vedete una madre piangente coperta da una sorta di saglio che regge il bambino che ha raccolto tra le macerie e che perde ancora il sangue dalle mani, l'avete notato. Poi c'è un particolare che qui non si vede, si vedeva nelle foto precedenti, perché i bambini come hanno rappresentato dopo questo evento, hanno disegnato e lo scultore ha rispettato sui due piastri posteriori il disegno dei bambini, un aereo che scende sulla scuola intatta e poi lo stesso aereo dall'altra parte che risale con la scuola distrutta. L'insieme di queste cose fa di questa statua una statua emozionante anche per la collocazione felice in cui sta. Questa è la grande sequenza di melotti davanti all'hangar di Cocca, è una porta che non è una porta, cioè una porta come la vedete che ha tutta una serie di fessure per cui tra l'altro nell'arco della giornata il sole trapassa attraverso queste fessure creando dei fasci di luce particolari. C'è una foto che dovreste avere visto nel tramonto in cui l'effetto di questa porta, di questa grande sequenza è particolarmente efficace. Questo invece è un monumento di uno strano artista, Mitorai, un artista di origine polacca se non sbaglio, ma ha trapiantato in Italia, che si diverte a fare questi non finiti. Tutte le sue opere sono dei non finiti, in cui ad esempio qui accenna a un personaggio, non si capisce nemmeno, no, maschile chiaramente, però nell'ambito del personaggio vedete che al posto del cuore mette la testa di una persona e sotto il costato mette un busto di donna. L'insieme è, cioè non si spiega, ma voglio dire, però è lo stesso stimolante. E oltretutto la collocazione davanti a Santa Maria del Carmine, Corso Garibaldi per chi la percorre, prende questo monumento piuttosto affascinante, cioè non si può passare senza degnarlo di uno sguardo. E tra l'altro Mitorai ha fatto altre opere di questo tipo nella stessa Milano, il monumento al Centauro, ma poi in altre città, lui mi ricordava Massa, Pietrasanta, io ne ho vista una a Pompei, per dire, cioè è uno che ha disseminato l'opere. No, no, Pompei, però. E questa è la fontana restaurata che si chiama delle quattro stagioni in quella che era la piazza Giulio Cesare davanti alla fiera campionaria. inaugurata nel 1936 o giù di lì, è rimasta attiva fino a che la fiera campionaria è rimasta attiva, poi dismessa la fiera da lì, era stata lasciata andare ed era un vero peccato. Con il rilancio di City Life, che è immediatamente dietro, da poco è stata rimessa in funzione, con i suoi getti d'acqua, le statue e quant'altro, e fa un bel vedere davanti al nuovo skyline delle tre torri di City Life e che tutti abbiamo negli occhi, i sozzacchi, la vita e lo storto. E questo è il carlinio, cioè Carlo Porta. Non è la statua originale del Carlo Porta, perché la statua originale del Carlo Porta, è stata fatta nell'Ottocento, sino al 1943, è rimasta nei giardini di Porta Venezia, al centro di un laghetto, tanto che i milanesi l'avevano ribattezzato l'avevano ribattezzato il guardiano di Ocche, il guardiano delle Ocche. Poi una bomba nel 1943 gli è caduta proprio in testa e ha distrutto la statua. Negli anni 50 uno scultore sioli delle nostre valli ha ripreso il disegno dello scultore originario e l'ha riprodotta esattamente come era prima. Però questa volta la statua è stata posta in un luogo più consono, cioè al Verze, Corso Europa per intenderci, verso Piazza Santo Sestino. Perché al Verze? Perché il Carlin è stato un grande cantore della mineta del Verze. Il Verze che cos'era? Era il grande mercato comunale di Milano, sino alla metà dell'Ottocento, poi è stato spostato all'esterno e lì si svolgevano tutti i traffici, le vendite che interessavano Milano. La mineta del Verze era una donna, un po' di facili costumi, potremmo dire, che però era generosa con molti milanesi e il Carlin gli ha dedicato una delle sue poesie dialettali più famose. Quindi la collocazione lì è idonea per questa statua, che tra l'altro ha un piglio, anche questo, molto simpatico, volitivo. Qui la vedete tra l'altro restaurata, perché la prima volta che noi l'abbiamo fotografata la statua era in pessime condizioni, cioè piena di smog, davvero messa male. Adesso invece lucidata, nel corso della pandemia, non sempre le pandemie vengono per nuocere, adesso fa una bella apparezione, una bella mostra di sé. E tra l'altro, per curiosità, di fianco è stata messa una statua di quel poeta bulgaro, Sleikov, che vi ho citato, su di una panchina. Il poeta sta da una parte, la panchina è più ampia, per cui voi vi potete sedere sulla stessa panchina del poeta, farvi fare una foto accanto a lui e rimilare da sotto in su il carro porta, che è lì a due passi. Questo è appunto un omaggio che dobbiamo al Pepo, che appena ha saputo che Aniguarda Milano nel maggio scorso è stato inaugurato un monumento al text filler, ha voluto andare subito a fotografarlo. Abbiamo fatto piuttosto fatica a trovarlo, perché l'indicazione era in corso Mac Mahon, ma prima di trovare i giardinetti in cui stava questo monumento ce n'è voluta, perché questi giardinetti sono proprio piazzati in mezzo a due palazzoni, l'ingresso è angusto, poi per fortuna dietro i palazzoni i giardinetti si aprono e lì in mezzo ai giardinetti c'è questa statua dedicata a text filler che, intendiamoci, se la vedete qui vi fa chissà quale impressione. Se la vedete vicina è una statuina, perché è alta così, su di un piedistallo piuttosto alto, quindi non è un gran bel vedere, è puramente una passione, una passionaccia che c'è il nostro Pepo che l'ha obbligato ad andare, che ci ha obbligati ad andare a fotografare questa statua. E credo che con la mostra abbiamo finito. Vi invito a vedere i quadri perché è un conto vederli in questa maniera, un conto è vederli come lui li ha davvero fotografati. Alcune di queste opere si segnalano proprio per la pulizia della fotografia, per la sua capacità di cogliere il particolare, di non lasciare niente per scontato. Quindi è una bella mostra, sono 14 opere che davvero meritano di essere viste. Allora, poi ovviamente se avete delle domande potete farle subito o dopo, qui ci sarà naturalmente il firmacopie del libro che potete acquistare là, poi si può andare a fare un giro alla mostra. Io vi volevo intanto anticipare quali saranno le prossime serate di un dicembre che ci sembra abbastanza ricco, qui alla Liberia Nuova Terra. Allora, martedì 30 torna da noi Albano Marcarini che ha fatto tante guide per biciclette, che era stato già noi un'altra volta a spiegare i giri nei nostri territori. Questa volta si presenta con una visuale molto più ampia, con questo suo attrante inutile del mondo, in cui ci dà 100 itinerari dei posti più sperduti del mondo, della cui inutilità lui parla, però sostanziandola con la sua usuale creatività. Poi giovedì 2 dicembre, a cura di Gianni Zuretti, Mauro Zambellini presenta il suo libro sull'Alman Brothers Band con l'introduzione di Marco Denti, un altro giornalista musicale. Al 10 dicembre torna da noi Pino Bravin con la sua nuova raccolta tre racconti, mentre al 13 dicembre, che è un lunedì, ricorderemo Peo, che tutti sicuramente conoscerete, ha un anno dalla sua scomparsa e vorremmo ricordarlo naturalmente con testimonianze, memorie degli amici e con letture. Questo lunedì 13 dicembre. Mentre il martedì 14 abbiamo un legnanese a Curzio Sotera che presenta il suo libro, L'isola senza nome, che in un certo senso un pochino si riallaccia al tema di questa sera, perché a Curzio Sotera è anche lui un fotografo e questo libro raccoglie come se fosse un almanacco 52 foto, immaginiamo le 52 settimane dell'anno e ad ogni foto corrisponde una massima, una forisma, una riflessione, un approfondimento e questo è a Curzio Sotera al 14 settembre. Per quanto riguarda invece a Pino Landonio, poi naturalmente questo libro, qui siamo solo alla partenza, poi prenderà velocità e ha degli altri incontri, per esempio al palazzo, dicevi, 4 dicembre al palazzo delle Stelline e invece oggi Affoli, poi alle Stelline, poi va qualcos'altro già problemato. Niente, questo per quanto riguarda Pino, io direi, se avete delle domande, naturalmente Pino è disponibilissimo. Un liter in quater è stato il modo di definire, di chiamare la statua di Leonardo che c'è in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, perché accanto alla grande statua, fin troppo grande di Leonardo, ci sono alla base quattro statue dei suoi collaboratori e allora qualcuno ha pensato subito, ma quella lì è una bottiglia con quattro bicchieri intorno, quindi un litro di quadro per dare questa rappresentazione. Poi una curiosità è che mentre il Leonardo ha su un'impronta un po' trofia, devo dire, nella rappresentazione statuaria, sono più interessanti quasi le statue che stanno alla base e una in particolare che è quella del Salaino, non so se l'avete conosciuto questo Salaino, che lo stesso Leonardo definisce come un ladro, un truffante, un truffatore, perché aveva l'aldire di firmare come proprie alcuni disegni che aveva fatto Leonardo e poi gli vendeva anche e ci guadagnava fingendo che fossero opere sue. Leonardo perché non l'ha cacciato via? Ahimè, perché l'era un bel fioe e siccome l'era un bel fioe, tutto sommato Leonardo si era un po' invadito e quindi l'ha sopportato fin tanto che è rimasto a Milano 25 anni e non poco a Milano, Leonardo, quindi roba da poco. Però, dicemi, qualcuno... C'è anche la professione Ticette. No, va bene, quella lì è una storia un po' troppo complessa, la facciamo stare. No, invece, i Triciuc, questa statua che abbiamo intravisto, che è vicino a Porta Romana, dedicata ai martiri, ai caduti, scusate, di Porta Romana. Questa statua è importante per due ragioni. Una perché ci ricorda il primo bombardamento della storia su di una città. Siamo nel 1916 e Milano subisce il primo bombardamento aereo da parte austriaca con una bomba che cade lì a Porta Romana e che fa una trentina di morti, distruggendo case. Però l'impressione fu sconvolgente, perché mai era successo che una città venisse attaccata in quella maniera proditoria e dei civili fossero massacrati in quella maniera. Allora, per ricordare questo evento, è stato fatto questo monumento in cui ci sono tre figure di un milite romano, una sorta di Alberto da Giussano, che reggono invece un uomo dei nostri tempi, però che all'area tra i due cadente, distrutto. E naturalmente i milanesi hanno subito pensato, ma quelli le Lenciuc, non che fosse un partigiano, no. Quindi i Triciuc per ricordare questo monumento che aveva tutt'altro significato. E per chiudere con un aneddoto, vi dico questo dell'Onde Preia. Non so se avete sentito parlare dell'Onde Preia. L'Onde Preia è una statua antica romana che oggi sta in Corso Vittorio Emanuele, poco dopo la Rinascente, accanto, cioè addossato alla parete. E lo si vede poco, perché tutti quelli che passano di lì di solito corrono, non si fermano. Bene, quest'Onde Preia, nell'Ottocento invece, aveva avuto una nobiltà notevole, perché era diventato un po' il Pasquino di Milano. Non stava lì, ma stava in una vietta isolata, a San Pietro all'Orto. E in questa vietta, quest'Onde Preia, raccoglieva i bigliettini, i messaggi, sia personali che poi in certi momenti più, diciamo così, politici, che i milanesi si vorrevano scambiare. Ad esempio, nell'atto preparatorio delle cinque giornate, durante le giornate dello sciopero del fumo, questo Onde Preia si riempì di bigliettini, di avvisi che raccomandavano di trovarsi a quell'ora, in quel posto, per poter dar luogo poi alle cinque giornate. Gli austriaci notarono la cosa e quando rientrarono dopo le cinque giornate, decisero subito che quel Pasquino milanese non doveva più stare lì. e lo spostarono e lo misero in questa zona centrale più controllata dalle guardie austriache e quindi non più passibile dell'atteggiamento che prima c'era nei suoi confronti. Ma l'ultima cosa particolare di questa statua è che i milanesi, oltre che Onde Preia, l'hanno chiamato Schulcarera. E perché Schulcarera? Perché sotto la statua c'è ancora adesso, lo potete vedere, una scritta in latino che comincia così carere bebert qui eccetera eccetera che vuol dire non devono mancare di virtù coloro che pretendono di parlare degli altri. non conoscendo bene il latino i milanesi hanno pensato che quel carere fosse il nome della statua quindi Schulcarera perché ecco, cioè vedete come molte statue si prendono dei nomi, delle storie che vanno ben al di là e al di fuori del seminato. Per chiudere io volevo leggervi una poesia sapete tutti che mi piacciono le poesie e per chiudere anche il libro facendo riferimento all'ultima statua presentata che è la Madonnina invece di prendere ad esempio la solita menia o mia bella Madonnina eccetera ho pensato di inserire una poesia di una nostra deliziosa poetessa contemporanea che è la Viviana Marca non so se la conoscete è una poetessa molto ironica nelle sue poesie ma qui ci fa una poesia un po' più seria e dice così agosto ce ne andiamo solo vi lasciamo Milano vigilate voi noi assenti sulle nostre case eleganti sui bei ladri distinti sui governanti non ce ne andiamo vi lasciamo i nostri cani adorati affamati, assetati ce ne andiamo vigilate voi sulla statuina che d'oro che non se la portino via vi lasciamo in compagnia i nostri cani adorati affamati assetati e poi piccioni e piccioni e sotto i piccioni statue dai grandi nomi statue rinomate ma voi come vi chiamate vi abbiamo torto anche i nomi nelle nostre città vigilate voi voi persone che chiamiamo Vucumpra sì bene giurella possono scendere o no allora vi invito a scendere a vedere